Sedicesima edizione della Sagra della Porchetta a Colledara, una tradizione sindaco che dura da 150 anni e che viene riproposta ogni anno nel vostro centro. Sì, quest'anno con la sedicesima edizione riproponiamo una manifestazione che ormai è diventata un classico per il Comune di Colledara, dove mettiamo a disposizione la gente il nostro prodotto migliore del luogo. Una porchetta che rappresenta uno dei simboli culinari della nostra regione, ci saranno tanti maestri della porchetta proprio in questa Sagra? Sì, noi ogni sera avremo otto stazioni dove poter degustare il nostro prodotto tipico che rappresenta la peculiarità del nostro territorio. Alberto D'Alberto, uno dei maestri e porchettai che parteciperà a questa Sagra di Colledara, qui rappresenta l'associazione dei maestri della porchetta perché ricordiamolo questa è un'arte, cucinare e preparare una buona porchetta oggi è un'arte. È veramente un'arte, questi porchettai di Colledara nel tempo hanno solidificato veramente e ne hanno fatta un'attività che conducono da molto tempo e che guidano molte famiglie nel nostro territorio. Ricordo il presidente di questa manifestazione, Giampaolo Mercuri, che ogni anno mette veramente a disposizione anima e cuore per realizzare questo evento nel migliore dei modi.